Dal ferimento all'occhio durante lo sbarco dei pirati alle vele d'epoca del 2014 alla battaglia per il risarcimento del danno in tribunale. Il calvario dell'agronomo imperiese Sergio Salvagna ha una battaglia continua tra ricoveri, interventi e cuore costose da pagare. E oggi una nuova doccia fredda perché soldi non se ne vedono ancora. Alle 12.15, non alle 11, davanti al giudice Silvano Ronzo si sono presentati i legali di McInnes e delle assicurazioni, ma anche di astronautica e della clinica Sant'Anna. Per un vizio di notifiche il caso è stato rinviato ancora. Questa mattina in aula c'erano anche Sergio, seduto in carrozzina, la moglie e il fratello Fulvio. Se ne parla il 16 maggio. Tra l'altro escono di scena sia l'astronautica sia il broker assicurativo. L'udienza di oggi è già stata rimandata in passato dal momento che la prima assicurazione chiamata in causa da McInnes, la Pantenius, non era intenzionata a pagare, giustificando la mancata copertura del danno come atto improprio. L'armatore aveva quindi interpellato altre due assicurazioni di cui è titolare. Il rinvio ad oggi è stato quindi necessario per permettere di acquisire gli atti e ascoltare le motivazioni delle altre due assicurazioni. Ma per una delle compagnie è stato sbagliato l'indirizzo. Nessuna speranza invece di vedere in Tribunale d'Imperia l'autore del gesto, l'armatore statunitense William McInnes, che non si era fatto vivo neppure durante la causa penale, terminata con una sentenza ad un anno e due mesi di reclusione e il pagamento di 400.000 euro alla famiglia Salvagno, contro cui l'americano è ricorso in appello.